infilo le braccia a 24 anni a un parto cesareo mio figlio pesa due chili e 400 grammi perché io ho mangiato molto ma l'hanno messo nell'incubatrice piange e grida il medico mi dice signora non arriva la notte bene che lo veda mi portano giù perché non riesco a camminare vedo mio figlio infilo le braccia nell'incubatrice e lo tocco gli parlo lui smette di piangere e gira la testa stupito come per cercarmi il medico mi dice che non vede ancora io lo tocco e gli parlo con amore da quel momento mio figlio smette di piangere un'infermiere anziana mi dice che ha riconosciuto alla mia voce mio figlio adesso a 40 anni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti